Mi sono appena svegliato, ho i capelli che sono una merda, volevo fare una partita, cioè volevo fare comunque il commento sulla partita dell'Italia, anche se sono impresentabile, ma non importa. Ieri sera si è giocata Italia-Croazia, mi sono appena svegliato quindi devo parlare piano. Si è giocata Italia-Croazia, dove l'Italia ha pareggiato 1-1, ancora l'ultimo secondo di Zaccagni. Il problema di questa squadra è che non c'è assolutamente gioco. Spalletti ieri l'ha preparata per un 3-5-2, che nel primo tempo a tratti ha funzionato. La squadra, diciamo, è partita molto molto male, perché in effetti la squadra non prendeva possesso palla e giocava solo la Croazia. Poi però nel primo tempo siamo cresciuti e ho visto parecchie sgaloppate, anzi non parecchie, qualche sgaloppata, da parte dei nostri giocatori sulle fasce. Era forse l'obiettivo di Spalletti solo con il 3-5-2, perché con il 3-5-2, largo, si era creata quella situazione per cui dovevi spazio sulle fasce e potevi comunque mettere in mezzo le palle e creare più occasioni. Quindi questa cosa io l'ho vista. Però nel secondo tempo io non ho visto più nulla, cioè ho visto che la Croazia è sicuramente iniziato meglio. L'Italia poi nel secondo tempo, per il resto del secondo tempo, ha giocato proprio impaurita, cioè senza mordente, senza nulla. E infatti poi ovviamente è successo che entrando frattesi, frattesi con un coglione, ha allargato il braccio e ha causato rigore per la Croazia. Perché questo braccio largo, ha toccato in area di rigore la palla, ovviamente calcio di rigore indiscutibile, però ovviamente Donnarumma lo para. Solamente che oltre a essere, Ceresida è stato parato, ok, ma poco dopo Modric, lo stesso tiratore di rigori, segna il gol dell'1-0. E l'Italia da lì in poi, in modo molto disordinato, prova ad attaccare, entra anche il Chiesa per esempio, che non ha fatto male. Scamacca che io continuo a non capire che cosa dobbiamo fare con questo Scamacca, perché Scamacca è un nazionale inutile. Ha fatto meglio Retequi quando era titolare. Di Lorenzo sempre lo stesso, però forse ha giocato un po' meglio. Poi c'era Darmian e Di Marco, Di Marco sostituito appunto per, per, diciamo, per fare entrare appunto, mi pare, Chiesa, sì. Poi, comunque, è entrato Zaccagni, è entrato Fagioli, Fagioli, vabbè, non ha servito a nulla, solo per prendere il cartellino giallo. Chissà se sarei giocato o battuta, ovviamente. E Zaccagni tra l'altro fa un grandissimo gol della Providenza, cioè solo così si poteva segnare appunto con una giocata del singolo, perché la squadra non fa, cioè fa acqua da tutte le parti. E poi, poi, niente, per quanto riguarda il primo tempo, Retequi fa qualche tiro, fa qualche occasione. Mentre invece Scamacca nel secondo tempo quando entra non tocca un pallone, semplicemente Chiesa ci prova. Chiesa ci prova, fa qualcosa, corre, ma non è, sinceramente non è il Chiesa che noi, che uno ci si aspetta e poi secondo me Chiesa alla fine non è questo grande fenomeno, questo grande giocatore che ci volevano far credere, cioè un buon giocatore, un giocatore valido, ma non è un giocatore sicuramente così forte, come dicono, infatti si vede. Giorginio, per esempio, è nazionale, io non lo voglio più vedere, come non vorrei più vedere altri giocatori come Di Lorenzo, come Di Lorenzo quando non è in forma. E poi, chiaramente, per esempio, Calafiori, Bastoni, ovviamente loro hanno fatto una buona partita in difesa, Donnarumma addirittura ha pagato un rigore, quindi Donnarumma è sempre uno dei migliori, va bene il gol, alla fine lo prende, ma non è colpa sua, ovviamente. Calafiori è bravo perché ha fatto l'assist, si è inventato l'assist. Per il resto, boh, non mi sento di dire altro perché la squadra alla fine ha sempre i stessi problemi, problemi di sterilità, problemi di intesa, di possesso. Si è vista un'Italia diversa al primo tempo, ma nel secondo tempo non si è più sfruttata la fascia, non si è più fatto quello che si faceva prima, forse perché la Croazia aveva anche un po' capito, aveva coperto un pochettino meglio, può essere. E quindi, niente, il 3-5-2 non funziona sempre, secondo me. Spalletti sa fare bene il 4-3, vediamo se magari nelle prossime partite però un 4-3 fatto meglio riesce a organizzare un po' la squadra, perché secondo me manco ieri ci siamo del tutto, perché con quella Croazia per me si doveva vincere, anche se non era necessario perché siamo passati comunque secondi e andremo contro la Svizzera, però secondo me era necessario vincere, almeno per il morale, perché andare così agli ottavi con un pareggio all'ultimo secondo risicato, non so quanto sia buono.